Salve a tutti, qui è Flamectube e vi volevo avvisare che tornerò a breve con nuovi video. Con il mio ritorno però non tratterò solo di speed art e grafica, come ho fatto in precedenza, ma farò anche montaggi, recensioni e gameplay. Le recensioni e i gameplay logicamente avranno anche uno sfondo di tipo grafico, dove infatti tratterò anche di grafica e magari farò anche speed art riguardanti i videogiochi. Niente, buona permanenza sul canale e ai prossimi video. Ciao ciao!